quando avete finito facciamo come vi consiglio sempre in scratch provate a modificare e cambiare un po di numeri ricordatevi che se cambiate il raggio e il tubo e volete che la vostra questo questa sfera insomma questo mandala 3d sia perfettamente appoggiato sul piano dovete sommare il raggio con il tubo e poi fate attenzione anche un'altra cosa se volete mantenere questa regolarità dovete cambiare le ripetizioni e anche l'angolo di rotazione e con una certa proporzione se noi raddoppiamo le ripetizioni dobbiamo dimezzare l'angolo di rotazione cosa vuol dire se ad esempio io faccio il doppio vi dico fammi 35 figure e voglio qui dovrò dirgli fammi 5 gradi uno dall'altro andiamo a vedere ok ho 36 figure perché dovete sempre tener conto che ne abbiamo sempre una in iniziale se vogliamo fare la metà scriviamo ad esempio 8 la metà di scusate da intendo siamo partiti da 17 17 con 10 questa era la nostra figura iniziale poi abbiamo raddoppiato tendo conto di fare 35 più una che fa 36 e qui abbiamo messo 5 gradi se noi di mezziamo il tutto quindi diciamo 8 più una che c'è iniziale che fa 9 qui dobbiamo che raddoppiare invece se vogliamo mantenere la proporzione ok quindi se aumentiamo le ripetizioni l'angolo di rotazione deve diminuire viceversa se diminuiamo le ripetizioni questo deve aumentare ok quindi aumenta diminuisce diminuisce aumenta rivediamo allora partiamo da 17 e qui scriviamo 10 e quindi eseguiamo ok se invece scriviamo 35 qui scriviamo 5 se invece scriviamo 8 riscriviamo 20 in questo modo va bene lascio a voi adesso sperimentare provate e divertitevi con questa figura